bella raga bentornati oggi ho rimesso il cappellino porta fortuna perché andiamo a fare un po di spacchettamenti allora da che iniziamo? iniziamo dai bauli va che sono sempre quelli un po stronzi dai che è coperta dai ma che cazzo è proviamone un altro dai 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 fammi sognare dai dai ma queste cazzo di rare sono dai 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 andiamo e andiamo Volcanion e questa è una bella botta di culo anche se in realtà con questo ce n'ho 5 quindi questo lo regalo questo lo regalo adesso andiamo a aprire vediamo ah un turbo blitz mi raccomando raga lo regalo eh l'ho detto e lo faccio lo regalo vediamo un po una sola dai mi mancava anche turbo crash dai 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 greninja dai dai alla grande dai buona buona una bella bustina cazzo bella 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 poi adesso va parecchio mazzo greninja apriamo le evoluzioni, va. Dai Macia, va bene. Dai, dai. Questa fa un po' più cagare, però Macia ci sta. Un'altra, va. Dai, ho messo anche il cappellino portafortuna, dai, 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 dai. Dai, dai, quante ce n'ho? Due. E su, dai. Dai, 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 che schifo Arkanheim. Dai, ma come si fa? Come si fa? Mamma mia! Che schifo, ne ho trovati quattro! Che schifo! Mamma mia, lo spacchettamento più brutto delle bustine evoluzione, penso in tutto l'universo. Più merda di questa la potete spacchettare. Su 6,4. È impossibile. E va bene, raga. Abbiamo finito anche sto spacchettamento. Mi raccomando, eh. Iscrivetevi perché è importantissimo e chi vuole mi aggiunge il regalo Volcano perché l'ho promesso, quindi lo faccio. Il primo che me lo chiede se lo prende. Mi raccomando, eh. E lasciate tanti pollicioni in su. Bella e al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!